oggi 12 giugno è l'anniversario di uno dei discorsi più toccanti di questo secolo il discorso che fece steve jobs agli studenti palo alto discorso che si chiuse con quella straordinaria frase siate affamati siate folli di quel memorabile discorso c'è un passaggio straordinario e quando jobs parla di unire i puntini della tua vita i puntini sono le cose che ti accadono perché le vuoi perché ti capitano o perché la circostanza ti ha condotto proprio lì ecco jobs dice i puntini sono tutti uniti ma non lo puoi capire adesso lo potrai capire solo guardando il tuo passato quei puntini che adesso vi sembrano senza senso finalmente avranno un senso devi credere le cose della tua vita chiamano il tuo karma o chiamano il tuo destino ma questo farà la differenza nella tua vita per questo non si deve rinunciare ad essere affamati di vita e per questo non si deve nemmeno temere di essere un po folli buongiorno mattino non si deve rinunciare ad essere affamati di vita e per questo non si deve rinunciare ad essere affamati di vita